Questo è quando ti metti un Air Force nuova. Aspetta, Giulio arrivo. Bisogna camminare così, per non piegarle più così. Quindi vuoi raccontarci un po'? Allora, oggi siamo a 28 posti, che è il nostro ristorante. Noi, sostanzialmente, come primo lavoro, abbiamo una ONG, per cui siamo cooperanti, e da sempre. All of you came to my birthday! I cannot believe it! Ehi! Che buone che sono qui! È un'escoffiare! Grazie a tutti. Wow, l'hai vista l'onda? Grazie a tutti. Grazie a tutti.